Buon pomeriggio, oggi siamo qui a Der, al Tempio di Adriano, qui a Roma. Oggi è una giornata particolarmente importante per noi giovani, oltre 300 giovani provenienti da tutta Italia per far sentire la propria presenza, la loro voce e la volontà di far tornare Roma allo splendore che merita. Oggi presenteremo tre progetti che per noi sono imprescindibili per la rinascita del nostro territorio, che sono la sostenibilità, la vivibilità e l'accoglienza. E cercheremo attraverso quindi le testimonianze di tre giovani improntitori di mostrare le difficoltà attuali del nostro territorio. E attraverso il contributo di alcuni tra i più alti esponenti della nostra città-regione cercheremo di fornire delle risposte in merito a queste tre tematiche che noi crediamo imprescindibili per la rinascita del nostro territorio. Grazie. Grazie. Grazie.